Sono Claudia Carani, sono una collaboratrice dell'Agenzia per l'Energia di Modena. Mi occupo di progetti europei, pianificazione energetica e progetti di mobilità sostenibile. Oggi abbiamo parlato appunto di mobilità sostenibile e trasporti nell'ambito della settimana della bioarchitettura e della domotica del 2015 e il tema è quello di ridurre i consumi di energia e anche le emissioni di CO2 legati a questo settore che per la Regione Emilia-Romagna costituiscono il 33% dei consumi energetici complessivi. Ci sono sempre più progetti innovativi che si vanno a portare avanti sul territorio regionale, in particolare a Modena stiamo portando avanti dei progetti che sono un esempio, una buona pratica per la Regione Emilia-Romagna che potranno poi essere replicati in altri ambiti territoriali. Parliamo di un car sharing elettrico a servizio dei dipendenti della pubblica amministrazione ma anche dei cittadini per offrire un servizio integrato al trasporto pubblico, alla mobilità pedonale ciclabile, quindi un'offerta di servizi diversi rispetto all'utilizzo del mezzo privato. Abbiamo parlato anche di un altro progetto che stiamo portando avanti sempre insieme all'amministrazione comunale che parla sempre di mobilità elettrica condivisa per offrire una mobilità a basso costo per le classi sociali deboli nell'edilizia sociale, quindi ridurre il costo di mobilità per le classi più povere. Abbiamo parlato anche di quanto sia importante avere dei professionisti formati in modo tale da offrire dei sistemi economici innovativi che siano sostenibili dal punto di vista economico e ambientale per andare a proporre delle soluzioni nell'ambito della mobilità ai trasporti. Il modello che abbiamo visto, proposto fino ai giorni nostri, dove l'unica alternativa al trasporto privato e al trasporto pubblico non funziona, deve essere sostenuto da altre iniziative, da altri progetti anche a piccola scala, anche che partono dal basso, che vadano a offrire una soluzione alla domanda di mobilità del cittadino rispettando l'etica, la sostenibilità sociale, della salute, economica e quant'altro. La mobilità interessa davvero tantissimi settori e quindi va curata di più rispetto a altre componenti secondo me del sistema energetico come ad esempio potrebbe essere la domanda di energia negli edifici perché comunque il trasporto ha un impatto sulla qualità dell'area altissimo e quindi con piccole iniziative si riesce veramente ad avere degli impatti significativi. Quindi ci auguriamo che questa giornata di oggi sia servita anche a promuovere dei progetti nuovi e anche delle collaborazioni tra vari enti che erano stati invitati al seminario.